Si è parlato di emarginazione e povertà nel corso della festa di liberetà organizzata a Cosenza all'ospici GL in collaborazione con la Confederazione e conclusasi con un dibattito che si è svolto in piazza 11 settembre. Il tema di quest'anno, decisamente di stringente attualità, è stato proprio dedicato alle fasce deboli e allo stato di povertà che purtroppo interessa milioni di italiani, specialmente nelle regioni meridionali, che molto spesso trova sollievo solo nelle iniziative dell'associazione di volontariato. Diverse le istituzioni che hanno preso parte all'iniziativa, nel corso della quale si è discusso delle attività che gli enti devono svolgere per contrastare il disagio sociale e delle scelte di natura politica relativamente alle destinazioni delle finanze pubbliche da compiere per vedere incontro a questo tipo di esigenze.